Salve, signorina! E buona giornata a te! Non temere, io sono Long, il quami del dragone. Che cosa sei? Un quami! Consentimi di parlarti delle imprese che una creatura magica come me ti aiuterà a realizzare non appena saranno pronunciate le parole magiche. Ladybug spera che sconfiggerai Carigosen con stile sfruttando uno dei seguenti elementi il vento, l'acqua o il fulmine. Ma per prima cosa lascia che ti illustri il suo piano. Long, scatena la tempesta! Aspetta, non ancora! Dragone del vento! Dragone del vento! Dragone del vento!